Passavano il tempo così, a lanciare grosse pietre contro la carrozzeria e i vetri dei pullman, rimanendo nascosti dietro le mura romane del Pincio. Un gioco, se così si può chiamare, che per fortuna è durato poco. L'azienda Adrebus infatti ha segnalato l'accaduto alla polizia di Fano e gli agenti in borghese. Dopo un appostamento hanno colto i ragazzi sul fatto. Li hanno portati in commissariato e chiamato i loro genitori ai quali sono stati riaffidati. Lo abbiamo fatto per puro divertimento, hanno confessato ai poliziotti, senza pensare oltretutto che potevano far del male a qualcuno. Questo non è successo, ma quegli autobus trasportano anche studenti e le conseguenze potevano essere ben peggiori. La cosa raccrapricciante è proprio l'età, 12 anni, e il puro divertimento. Quindi saremo spietati in questo senso, soprattutto chi maltratta i minori e chi si rende in qualche modo responsabile del coinvolgimento dei minori. I ragazzi lanciavano sassi prima di entrare in classe. Frequentano infatti le seconde e terze medie in una scuola del centro storico. Alcuni giorni prima, la loro stessa bravata ha causato 8.000 euro di danni a tre autobus, oltre che al pericolo di colpire i passanti. Vista la giovanità, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria minorile. Prima di entrare negli istituti scolastici, quindi prima delle ore 8, si appostavano proprio nella zona Pincio dove convergono tutte le autolinee degli studenti e lanciavano delle pietre anche di grosse dimensioni colpendo gli stessi autobus, causando numerosi danni anche ingenti, generando anche delle situazioni di pericolo anche ad altri minori.